Spesso sono i dettagli a fare la differenza e ancora più spesso sono i piccoli progetti a migliorare sensibilmente la qualità di vita della popolazione. Ne è esempio il progetto per la realizzazione del sottopassaggio pedociclabile di Manless in Val Venosta. La nuova infrastruttura permetterà il collegamento in totale sicurezza tra la zona delle scuole fino a quella del vicino campo sportivo. Un piccolo intervento ma sull'importante strada delle Val Venosta qui nel comune di Manless è nato questo progetto che è un progetto integrato perché andiamo a combinare sia la sicurezza stradale ma soprattutto con il sottopassaggio garantire anche la sicurezza pedonale e per la mobilità ciclistica. La sicurezza è l'obiettivo primario di questo intervento in Alta Val Venosta. Qua a Manless costruiamo un sottopasso della strada statale. Questo sottopasso sarà molto importante per raggiungere in modo sicuro la zona sportiva e anche il paese di Laudes. Con questo sottopasso si può evitare due attraversamenti sia della strada statale che anche della strada provinciale. I costi dell'opera sono 500.000 euro e i costi complessivi 675.000 euro. Massima la soddisfazione da parte degli amministratori locali soprattutto per garantire spostamenti sicuri ai più giovani. Per noi questo sottopassaggio è importantissimo perché è un collegamento dal paese al campo sportivo di Malles, quello vecchio, e lì tutti i giorni passano i bambini per andare lì ad allenarsi così riescono a sottopassare la statale e anche la provinciale senza rischio. La collaborazione tra i vari enti è fondamentale per poter arrivare in tempi brevi ma soprattutto certi all'avvio dei lavori. Noi come comune abbiamo iniziato il progetto qua, abbiamo fatto diversi sopralluoghi e alla fine la provincia ci ha assicurato e adesso lo fa anche che fa i lavori la provincia e siamo contenti che adesso si può iniziare con i lavori. I lavori avviati ad inizio giugno verranno ultimati a fine ottobre. Grazie a tutti.